buonasera a tutti piccolo videino videino veloce veloce per darvi un'idea di cosa consuma sta macchina gpl tipo 1.4 tjet dunque ero circa metà serbatoio del bombolone ho fatto il pieno e ho inserito ho inserito facendo il pieno sono stati inseriti nel serbatoio 19,58 litri di gpl ho speso 13 euro e 10 comunque 13,10 euro al momento del pieno ho percorso da quando ho preso la macchina che mi è stata usata col pieno comunque quindi calcolando che era piena adesso io non so ho detto che ho fatto il pieno comunque ho percorso 214,5 chilometri la media in questo momento è praticamente di 10,95 chilometri con un litro ok se gli stessi chilometri l'avessi percorsa benzina avrei consumato una media di 13 chilometri con un litro più o meno qualcosina di più ma calcoliamo 13 stiamo proprio più bassi possibile avrei praticamente consumato 16,5 litri di benzina che in questo momento costo 1,80 euro quindi spendevo 16 euro in più perché andavo quasi a 29 euro sì dai conti che ho fatto praticamente sì erano 16 euro in più perché andavo a finire a 29 euro quindi a pari percorrenza c'è un buon 50 per cento di risparmio come vado io eh adesso vediamo stabilizzandosi il gpl l'impianto e tutto vediamo quanto va a consumare preciso ma praticamente stiamo su medie tra i 10 e gli 11 in alcuni casi fa anche i 12 quindi direi che non è male assolutamente non è malvagio per cui ci aggiorniamo i prossimi dati questo è un dato fresco fresco fatto dal distributore e niente prossimamente farò quel famoso video sopra la lancia y e vi parlerò anche della fiat 600 che ho avuto occasione finalmente di vedere dal vero specialmente gli interni quelle cose lì e vi darò una mia un mio giudizio più preciso perché sai un quanto è vedere dal vero quanto è vedere in foto quindi ciao a tutti